Grazie a voi. Sì, in fondo noi siamo la civiltà del libro. È divertente, curioso e intrigante l'annuncio che ha fatto Newsweek, l'avete sentito sulle televisioni, che dall'inizio dell'anno prossimo, 2013, Newsweek appare solo su tablet. Perché dicono, così si risparmia la carta, è anche ecologico, non si tagliano gli alberi, noi risparmiamo fracco di danaro, licenziamo un po' di persone, che fanno sempre piacere gli americani, e vivremo su tablet. Fra 120 anni, uno che tornasse in casa mia, dove non si butta praticamente niente, troverà ancora dei vecchi numeri dell'Espresso, un po' incolati insieme, ma alcuni sì, alcuni no. E se uno ha curiosità potrà vedere la faccia di Silvio Berlusconi nel momento del suo decadimento finale, il che sarà un monito per le generazioni successive. Se farà 150 anni, uno che trovasse una casa analoga alla mia, in fondo alla pianura americana, troverà un tablet, tenterà di schiacciare, ma non riuscirà più a farlo funzionare, perché non ci sarà più l'emittente. Troverà forse una memoria, ma la memoria non avrà più il codice di passaggio sul nuovo lettore che lui avrà, la memoria sarà cancellata. Noi esistiamo in quanto abbiamo una memoria legata al libro. E voi poi in questa zona qua, vi tocca anche in modo particolare, perché non lontano da qua, ma dopo Poggio Bracciolini, ne parleremo dopo del ruolo che lui gioca. Noi siamo la civiltà del libro. Attenzione, lo siamo in un modo particolare, non siamo la civiltà della scrittura, o la civiltà della lettera. La civiltà della lettera è quella che nasce sostanzialmente quando si inventa finalmente l'alfabeto finiccio per rendere felici i ragionieri. Nel senso che la scrittura di prima era talmente complessa, quella con i forme, che o uno faceva il sacerdote da 18 anni o non riusciva né a leggere né a scrivere correttamente. Oppure quello che conosciamo del lineare B greco non se ne sa quasi nulla. Si forma l'alfabeto ad un certo punto e anche abbastanza recentemente, tra il X e il IX secolo, quei famosi segni, il bovino che fa la alfa, quello che poi diventerà la cultura duplice da un lato e migra verso la vera cultura della lettera, che è quella ebraica, per cui Dio segna la lettera nel cielo, e quell'altra che è quella greca, in cui diventa l'alfabeto greco, da quale discendono tutti i tuoi nostri, fino a quello che troviamo anche oggi a comprare il giornale quotidiano. Dalla lettera nascono dei modi di concepire, ma non ancora i libri. Il rotolo storico, il papiro che circola, contengono in sé una grande libertà comportamentale. Gli unici attenti che si pongono alla questione in modo severo sono i maniaci della lettera, non del libro, cioè il mondo ebraico. La Torah nasce su un rotolo definito e preciso, e viene arrotolato e incolato un pezzo all'altro, perché incolando un pezzo all'altro, alla fine non si può cambiare il testo. La Torah viene conservata in sinagoga per la lettura, e quando perde una lettera, il giorno in cui una lettera scritta in uno dei testi, qualsiasi dei testi divini, quando perde una lettera viene buttata via, viene sostituita con una nuova Torah scritta nuova. La lettera non va mai persa nel mondo ebraico, ma ancora non è un libro, è un rotolo. La faccenda dei libri comincia a nascere più o meno per un motivo banale, per non fregare la possibilità di precisare fino in fondo un testo amministrativo. Curiosamente uno dei primi inventori di libri è Giulio Cesare, che negli atti senatoriali comincia a chiedere che i fogli siano numerati e rilegati, per evitare il trucco che avviene anche, che adesso non avviene più, ma anche nelle amministrazioni pubbliche c'era quello che infilava una delibera fra le altre, e tentava di farla passare. Con questo sistema il libro diventa libro. Si forma per la prima volta questo apparato diverso dal rotolo, diverso dal foglio libero, che è la cosa non ancora rilegata, la cosa chiusa ma numerata. Diventa la fondamentale per la cristianità. Cioè il grande dibattito che si articola dopo il concilio di Nicea è un dibattito attorno ai testi e avviene per un motivo politico. Quest'anno si parlerà, l'anno prossimo si parlerà molto di Costantino per via del fatto che l'anno prossimo al centenario del 313 dell'edito della tolleranza cosiddetto a Milano, insieme a Licinio, fatto un po' in società ai due imperatori, con il quale si apre il potere vero della nostra civiltà, la civiltà cristiana. Ebbene, in quell'occasione però dovremo, potremo riaprire tutta una serie di dibattiti intorno alla faccenda e di cui il dibattito più interessante è come mai la Chiesa cristiana non ha mai fatto cattolica romana apostolica, non ha mai fatto santo Costantino, che in fondo è quello che ha aperto il business a tutta l'operazione. Non ci saremmo noi oggi qua se non avesse Costantino promulgato e sostenuto quella edito che veniva in fondo otto anni dopo l'ultima grossa persecuzione di Diocleziano. Perché la Chiesa ha sempre capito che era un gesto di grande finezza politica, di acume politico, ma non ha fatto un gesto di fede. Difatti lui stesso si farà poi battezzare, ma solo verso il 23 o verso il 28 un attimo prima di morire. perché compie quel gesto? Perché è l'unico modo per salvare l'impero che si sta disgregando. Cioè cosa vuol dire disgregazione dell'impero? Noi viviamo oggi in uno Stato che si sta disgregando, quindi sappiamo cosa vuol dire. Si rompono le strade, non arrivano più i soldi per pagare gli insegnanti in alcune parti di Italia. Lo Stato attuale è molto complesso, comprende il welfare, le pensioni. Lo Stato antico è più semplice, si fonda su tre elementi. Si fonda sull'esercito, l'amministrazione della giustizia, cioè le magistrature, e il privilegio del fisco. E poi su alcuni interventi di lavori pubblici che sono sostanzialmente stradali e legati alle altre infrastrutture, quelle delle acque. Ma non deve occuparsi di educazione, non alla formazione, non al Ministero dei beni culturali, cioè questa roba qua non esiste. Quindi lo Stato antico si disgrega in quanto le magistrature stanno perdendo l'abitudine di gestire lo stesso diritto nelle varie parti dell'impero. Questa è la sostanza della disgregazione, punto uno. Punto due, si disgrega in quanto gli eserciti messi sotto ogni volta sotto un altro imperatore nella tetratia, vanno in ognuna in loro direzione. Rimane la magistratura che dovrebbe riunire. La magistratura si indebolisce radicalmente. E Costantino fa una scoperta che non è proprio l'acqua calda, ma che è l'indicazione data lì dalla mamma, in Oxinio Vinces, ed è per questo che la mamma la fa santa, mentre il figlio non lo fa santo, Elena. Gli dà un'indicazione precisa, dice ma perché non provi a rifondare lo Stato su questa nuova struttura portante di tessuto sociale che sono gli episcopati. ed è così che nasce l'idea del concilio di Nicea. Si riesce a radunare tutti, un'operazione immaginate per l'epoca senza telefonini, senza fax, senza niente di moderno, cioè riuscire a radunare quasi 250, 300 vescovi a Nicea con una convocazione di un anno circa, che vanno lì con uno scopo solo, trovare un punto di accordo fra le varie interpretazioni dei testi che ognuno di loro dà nella propria area. E lì si arriva, ognuno con i propri testi, ognuno dice io la vedo così, io la vedo così, io sono del... io leggo San Giacomo, per esempio. San Giacomo ha continuato ad andare di moda fino al VII, VIII secolo, abbiamo delle testimonianze, anche in area italica, di elementi dei Vangeli di San Giacomo che sono riportati ancora nei decori parietali, oppure in alcuni oggetti, il famoso trono episcopale di Ravenna contiene ancora gli elementi di San Giacomo. A Nicea si inventa un patto politico, che è quello di porre i quattro Vangeli canonici. Si caccia il povero San Giacomo, che non aveva colpa sua, il poveretto era anche uno dei prediletti. Lì si sostituisce uno che non ha mai conosciuto Gesù, che è Lucca, perché ognuno di questi rappresenta un'area diversa dell'equilibrio di questo incredibile politburo che è il concilio di Nicea. Allora si dice, Lucca perché così ci stanno i Greci, Giovanni perché così ci stanno anche gli Aramaici, Marco perché suona un po' di Roma, e Matteo perché è proprio il vecchio giudaismo, più o meno grossomodo riassunto così, gli altri tutti fuori, perché sugli altri si formerebbe un dibattito irrisolvibile fra le aree di Bisanzio e le aree per esempio del sud della Spagna, fra le aree di Alessandra e le aree di Aquileia. È un patto sociale. Fatto il patto sociale, bisogna determinare una questione precisa. Nessuno cambierà mai più questi testi. in quel momento il libro diventa il fondamento della mutazione della civiltà alla quale noi apparteniamo ancora oggi. Vengono presi i testi, vengono messi l'uno dopo l'altro, gli si prende una bella placchetta che poi nel Medioevo si decorerà in un modo mirabile, la si chiude definitivamente e da lì non esce più una parola e non viene raggiunta una parola. È nato il libro. Questo concetto del nato di valore esame lo rende un po' in modo anche un po' caricaturale ma corrisponde oggettivamente alla verità storica, diventa un dato stabile della cultura dell'Alto Medioevo, della decadenza dell'Impero e poi dell'Alto Medioevo. A tal punto che quando decade l'Impero quasi definitivamente, all'inizio del VI secolo a Giustiniano torna lo stesso problema. Giustiniano è riuscito per un attimo a ricomporre la macchina amministrativa rotta e dice che qui bisogna rifare la legge e l'unica soluzione è rifare la legge. Dobbiamo trovare una norma sulla quale ci troviamo d'accordo. Quello che fu l'accordo interreligioso cristiano di Costantino diventa un accordo normativo per Giustiniano. Giustiniano rifà la norma giustiniana che noi portiamo ancora come eredità addirittura fino al mondo d'oggi. Anche questa verrà sancita una serie di testi stabili, chiusi, i quali a loro volta, come esattamente le norme giuridiche di oggi, dovranno essere arricchiti con i codicili interpretativi, come oggi quando passa una legge, senza i regolamenti non si riesce manco a applicarla. Il testo base, tanto è divertente questa cosa, il testo base, lui per segnare la sua volontà di tenere in piedi lo Stato è in latino. Le novelle interpretative sono le prime sette in latino e all'ottava c'è una premessa che dice qui in latino non lo parla più nessuno, se non la scriviamo in greco non la capisce nessuno. Noi pensiamo che il latino fosse la lingua dell'antichità nella decadenza, non è vero. La lingua di chi era colto, di chi leggeva e anche dei cristiani era ormai il greco diffuso ovunque. Si scrivono le novelle in greco e si rivettono anche quelle. Abbiamo da quel momento in poi una serie di dati stabili di quello che sarà il nostro mondo definitivo del libro. Non ne usciremo più. Noi da quel momento siamo i figli del libro. E questo è essere i figli del libro. Avrà una curiosa conseguenza in un paese, l'Italia, che poi è uno di quelli che legge meno di tutti oggi. È interessante anche capire come mai da allora abbiamo avuto questo passaggio a non leggere più. Fondamentale la questione. Il passaggio da noi avviene quando tutti questi testi, più le novelle interpretative, più tutti i codici, i codicilli, i regolamenti locali, i regolamenti regionali, vengono nella parte occidentale dell'impero adunate attorno all'esarcato di Ravenna nel momento dell'implosione quasi definitiva, cioè proprio prima che si tiri giù la saracinesca. Poi non è vero che l'impero finisce con l'ultimo dei Romolo. Continua più in là perché una parte dei nordici, una parte dei galli, una parte dei teutoni si sentono i regli di quella roba, si nominano le... Non finisce così come nei libri di storia semplificati, ma nella sostanza implode la parte occidentale. La parte occidentale è un più implode, ma rimane il tesoro assoluto dei libri. Il grande patrimonio libranio che è la prova della norma e la necessità giustificatoria della norma è quello di Ravenna. e quando definitivamente si disfa anche il peso Ravennate, alcune buone anime portano tutta sta roba a Bologna. È la fortuna di Bologna. A partire dal nono secolo Bologna diventa la più grande cassaforte di libri che ci sia nell'Occidente e che consentono a questi libri, essendo testi ormai di fede assoluta, di rienterpretare la legge e di essere il luogo dell'interpretazione della legge. Questo è il motivo per il quale nasce l'Università di Bologna nell'undicesimo secolo. L'Università di Bologna non è affatto quello che immaginiamo noi come università oggi. Bologna è il luogo dove ci sono i testi. Se uno vuole fare l'aiuto al governo del re di Ungheria oppure di un paese del nord Europa di un principone tedesco deve sapere la norma. Noi spesso pensiamo che il Medioevo sia come al cinema un mondo nel quale si difende il diritto o si afferma il diritto a colpi di spadone nulla di più sbagliato il Medioevo essendo uno dei momenti di massima fede e di massima paura anche per l'arrivo immediato della Gerusalemme celeste cioè i due uomini fino al mille sono convinti che l'anno dopo il mondo finisca ci hanno cominciato a crederci nel primo secolo a cofure di rinviarlo sono arrivati costantemente ad essere convinti che il mondo finisca quindi la pura spiegazione delle armi non era affatto sufficiente a giustificare e legittimare il potere senza la legittimazione del libro il potere non poteva esistere chi interpretava il libro aveva in realtà potere pari a chi interpretava le armi a chi portava le armi lo racconto con straordinaria precisione Jacques Le Goff quando dice il fondo del medioevo si basava inizialmente su questa dicotomia che era quella fra bellum e sacerdotium cioè chi teneva lo spadone e chi teneva la fede però appena questa dicotomia diventa un po' tesa entra immediatamente il terzo elemento che è lo studium e lo studium vince sugli altri due perché lo studium è in grado di determinare se il sacerdotium è giusto o meno e se il governo ha un suo valore o meno l'interpretazione dei libri è la chiave infatti cosa succede sapendo che tutti i libri sono a Bologna si formano due scuole a Bologna due aree a Prodo una è quella di chi sta nella penisola chi è legato al papato ai miei scovati ai nostri disordinati sistemi politici che si stanno riformando sia in chi dipende dall'impero ma soprattutto in chi vive nelle città che si stanno affrancando come città comunali e poi arrivano quelli da fuori che sono gli ultramontani e lì unico come gli altri arrivano e sanno che ci sono dei libri affittano i professori affittano dei signori come adesso io non sarei all'altezza ma vediamo che io fossi bravo potrebbero affittarmi perché io gli spiegassi i testi che leggono è curiosissimo c'è un bellissimo basso rilievo nel museo medievale di Bologna dove ci sono questi allievi col professore sono molto più vecchi gli allievi del professore perché si capisce che sono i cancellieri di governi importanti che vanno da un pivello che li porta i libri in sostanza perché sa il latino un po' meglio di loro che sanno delle lingue che parlano bavarese o parlano brandeburghese o parlano borgognone e però lui li interpreta i testi e li fornisce a tal punto cosa è assolutamente divertente che il rector quello che gestisce la comunità di queste case è preso in affitto dove 4-5 di questi signori potenti vengono ben curati con il loro professore affittato il rector è eletto dagli studenti una roba da post 68 e sono due i rettori uno per gli italiani perché vanno d'accordo fra di loro e uno per gli ultramontani perché devono andare d'accordo fra di loro ma tutti e due sono lì con uno scopo preciso farsi leggere il libro e lì il libro subisce una folgorante trasformazione che è la trasformazione della glossa cioè siccome questi testi vanno interpretati gli amanuenzi che li producono li producono già con una serie di pareri storici in nota per cui viene fuori questa pagina molto bella un quadratino in mezzo un testo abbastanza contenuto e intorno al testo tutte le glosse che spiegano il significato del libro stanno inventando internet esattamente come adesso quando aprite la pagina internet e cliccate su un punto e l'altro alcuni dei libri più preziosi più usati più consultati dell'epoca hanno il testo la glossa il commento del professore alla glossa altra calligrafia ancora e talvolta il commento del proprietario del libro in questo incrocio di commenti che vengono tutti disegliati benissimo tra l'altro scritti benissimo si forma questa sorta di comprensione di complessità del sapere che è la radice della nostra cultura medievale ed è assolutamente straordinario devo dire oggetti che non van via a basso prezzo proposito voi sapete che gli aretini non sono generosi sono qua vicini ma sono piuttosto attaccati alla spesa del danaro io ho avuto la fortuna di avere in mano il che è conservato l'ambrosiana mi sono avuto dei privilegi bizzarri della vita quello di toccare dei libri rarissimi ho girato le pagine del del Virgilio di Petrarca era del padre a dire la verità poi nel momento dell'eredità del padre fu venduto perché aveva un fracco di soldi poi fu ricomprato da Petrarca quando divenne anche lui abbastanza provisto di danaro perché le cose gli andavano bene quel libro lì che ha la controcopertina dipinta da Simone Martini i testi sono un libro che avrà 300 pagine è un oggetto che aveva un presto folgorante perché 300 pergamene perfette sono una selezione di pelli su 3000 pecore non è che tutte le pecore siano perfette c'è quella che è stata morsa da un insetto c'è quella che si è avuto a che fare con un'altra pecora non particolarmente d'accordo c'è quella che si è grattata contro l'albero 300 fogli perfetti più il lavoro degli Emanuenzi più il decoro di Martini è una roba come due Ferrari 740 non le 740 F40 cioè a far avere al proprio figlio un libro di quell'importanza era folgorante infatti Petrarca che era noto come uno degli uomini con la più grande biblioteca personale allora circolante aveva 40 volumi e 40 volumi viaggiavano con lui in una cassa che era più o meno grande come questo tavolo che esiste ancora nel museo di Arqua Petrarca andava da un posto all'altro con i suoi libri e questo si rappresenta il potere e il significato del libro nelle sue chiavi interpretative chi era in grado di leggerlo chi era in grado di interpretarlo deteneva il potere e la cosa è talmente importante che per esempio nei grandi dibattiti della politica con la quale si passa da un periodo abbastanza truce del XII secolo a quel periodo folgorante di ricchezza che fu il XIII il famoso Dugento il Dugento si apre con un dibattito intorno ai libri perché Innocenzo III Papa che è questo bizzarro personaggio che nasce ad Anagni che come dicono a Roma che se non teoporti non mani dove il papato si era rifugiato per via dei pasticci della città di Roma del XII secolo è figlio dei conti di Anagni se ne va nell'università alternativa a Bologna che è appena stata creata che è quella di Parigi e va a studiare a Parigi perché deve sapere i termini misti di dottrina teologica e di dottrina di diritto dopodiché gli viene affidato come tutore Federico II di Svevia cioè quello che diventerà il grande imperatore e la battaglia per il passaggio della corona imperiale non sarà affatto alcuni sconsiderati tenteranno un colpo di mano due botte di spada e un disarcionato da cavallo ma nella realtà delle cose la battaglia vera è una battaglia teorica giuridica cioè la teoria del diritto è la parte più importante per stabilire l'equilibrio politico dell'Europa cosa che poi riassume in un modo geniale pochi anni dopo negli anni di Petrarca Guglielmo da Occam alcuni di voi lo conoscono quello famoso quello del rasoio detto così adesso è un po' riduttivo non è quello del rasoio è uno dei più grandi pensatori che rompe gran parte delle impostazioni del pensiero scolastico del 200 quello di Tommaso e lo riversa in chiave antidominicana presso i francescani ma lui alla fine a metà del 200 quando scappa perché lo rincorrono lo vogliono fare la festa ad Avignone scappa sotto la protezione dell'imperatore con questa frase tu defendas me Gladio ego defendam te calamo cioè il mio calamo ti difende esattamente come la tua spada difende me l'equilibrio si forma lì e tutto ciò è sempre legato a questo apparato particolare del testo consacrato attraverso il fatto che lì non è trasformabile è vincolato è quello lì ed è solo commentato allora il libro diventa una cosa estremamente intrigante e si capisce anche che si lavora in tutti i modi o per renderlo bellissimo o per renderlo diffusissimo sono le due strade opposte che raggiungeranno devo dire la verità l'apice della contraddizione negli anni 50 del 400 fra il 52 e il 55 perché avvengono due fatti opposti da un lato Borso d'Este decide che vuole la sua Bibbia cioè i signori quelli che il mio amico Paolucci definisce tagliagola d'Italia i signori che vogliono copiare vogliono darsi uno status e quindi vorrebbero essere eleganti come le biblioteche dei Vaticani vari oppure dei grandi monasteri oppure dall'altro lato i grandi duchi dell'area di Francia del del Limburgo e delle Germanie girano con i propri libri che sono oggetti di una preziosità assoluta decorati fino nell'ultimo dettaglio Borso d'Este chiede la Bibbia più bella che sia mai stata fatta ci lavorano 21 artisti per 7 anni ti chiede decorare 15-20 chiese come queste cioè lui mette 15 chiese in un libro che si porta presso libro straordinario nelle decorazioni dove tutte le mani si incrociano che forma un immaginario addirittura più complesso dell'immaginario che noi ci proviene dalla pittura perché quello lì ha la sua articolazione nella folia assoluta ed è parente stretto parallelo o alternativo ai grandi libri francesi quelli dei fratelli di Limburg quelli dei primi dei primi grandi che passeranno poi alla pittura come Van Eyck i due fratelli di Van Eyck lavorano prima in quel campo lì poi finché non arriva un borghese che dice a me non frega nulla di queste scicheria da portare appresso fammi una cosa stabile poi io faccio il borgomastro faccio Mical Duca e nasce l'anielo mistico di Gon cioè primo grande quadro nostro ma prima tutto questo culto dell'estetica perfetta sta nel libro però contemporaneamente questo cruco tremendo del Gutenberg inventa l'opposto stampa la Bibbia è bruttissima la Bibbia di Gutenberg cioè se uno mette l'uno accanto all'altro da un lato al capolavoro dell'estetica del potere e dello spreco dall'altro lato al capolavoro della miseria del linguaggio nuovo che nasce però la Bibbia di Gutenberg avrà degli effetti tremendi cambia il mondo da quell'immensione di Gutenberg in avanti cioè dal 50 all'inizio del 500 in questi 40 anni più o meno lui intanto prova a mandare i figli a Bologna dicendo visto che a Bologna fanno tutti sti libri per l'università proviamoci mando i due figli stanno la settimana a Bologna cominciano a portano il primo tentativo di Torchio gli Emanuenzi di Bologna che sarà 2000 persone che vivevano facendo libri si ribellano e tentano di vinciarli scappano i figli di Gutenberg e tornano in Germania a fare i libri tedeschi però questi libri tedeschi hanno un effetto incredibile si reputa che in poco tempo si sia passati da 300.000 libri in occidente a 30 milioni cioè è cambiato il modo di sapere il mondo il diritto di accedere alle informazioni esattamente quello che sta succedendo oggi con internet cioè fra poco non saremo più costretti a vedere il telegiornale di Rai 1 o il telegiornale della 5 ma alcuni potranno vedere con convinzione Teresa Giovanni Vandarlo per esempio con dei commenti folgoranti sulla politica medio orientale perché qualcuno qua ha quel palino lì salta tutto il meccanismo ecco saltò tutto il meccanismo la Bibbia di Gutenberg in 70 anni portò alla fissione delle 95 proposte di Lutero sulla porta di Gutenberg e portò alla spaccatura dell'Europa nel protestantesimo e il protestantesimo si fondava proprio su questo fatto il libro non è più solo quella roba che appartiene a chi lo sa interpretare non è più solo quello strumento che ti insegna nell'università che tengo nelle monasteri sta nelle biblioteche del Vaticano dei monasteri e dei mini o macro monarchi il libro diventa almeno la Bibbia uno strumento d'obbligo per ogni capofamiglia effetto tremendo tutti i tedeschi imparano a leggere cosa che fanno ancora adesso cioè faccenda gravissima perché il capofamiglia diventa veramente il capo del proprio destino attenzione cioè non è mica una roba facile da lasciar passare nell'ultima guerra era un po' dura sto fatto che un tedesco decidesse di sparare dove voleva lui era meglio forse che non gli si insegnasse a leggere oppure è comunque buono che abbia imparato a leggere così hanno inventato di quei fantastici filosofi che fanno sì che discutiamo costantemente non è una questione che posso risolvere io però una domanda interessante da porsi certo è che la chiesa romana apostolica e cattolica capì che pericolo era terribile e inventò il concilio di Trento durò a lungo il concilio di Trento ma ne venne fuori con delle conclusioni assolutamente chiare uno non si traduce la Bibbia in italiano cioè non è mica corretto che tutti questi italiani qua se la leggono o uno sarà latino o se no è meglio che vada dal parroco a farsela spiegare punto uno punto due già che ci siete meglio non leggere troppo e questo devo dire che gli italiani l'indicazione l'ha seguita da allora fino ad oggi punto tre ma siccome è scorretto mantenervi dell'ignoranza inventeremo dei sistemi di comunicazione alternativa ai libri non era ancora la televisione ma era lì vicino i grandi teleri che San Carlo fa fare per il Duomo di Milano sono il primo esempio di quello che verrà poi chiamato la Bibbia pauperum la Bibbia per i poveri dove non si deve leggere basta guardare e dove il prevosto ha il diritto di dire guarda che quello che vedi è quella roba lì cioè l'interpretazione rimane al prevosto ha delle altre conseguenze mirabili che da un lato se si vieta alla gente di fare i letterati a tal punto che il povero Tommaso Campanella lo mettono in galera dieci anni dopo dovrà scrivere la sua città del sole e pubblicarla a Parigi in cambio è permesso fare musica è permesso fare poesia è permesso esagerare nello stupore e nella sorpresa è consentito far fare dire a Giovan Battista Marino che in fondo il poeta deve sorprendere e che non stupire è meglio che vada a pulire cavalli vada alla striglia nasce una nostra cultura alternativa quella dei tedeschi che leggono noi siamo quelli che hanno il diritto a guardare i quadri occuparsi di architettura a fare musica a mescolare tutto per inventare il mondo barocco noi siamo legittimati a inventare l'opera il nostro rifiuto della lettura diventa la fondazione della nostra cultura come paese del melodramma ed allora oggettivamente noi siamo rimasti il paese del melodramma della televisione della soap opera e loro sono rimasti i paesi quelli che leggono non siamo a grado di dire chi è meglio da un lato e dall'altro ma così è andato nella storia il mondo del libro è diventato più loro che il nostro anche se attenzione fino al concilio noi abbiamo dato dei contributi folgoranti all'uso del libro tutta la diffusione del libro piccolo questa invenzione che sembra stupida di Aldo Manunzio che è quello di ridurre il grande foglio in fogli piccoli quello di cominciare a usare esclusivamente abolire la pecora e passare alla carta fare il libro di piccolo formato che può circolare la famosa cinquecentina fa sì che anche da noi la diffusione esplode fino a metà del cinquecento noi andiamo giù pesante con i libri si diffondono stamperie in tutta Italia si aprono dei varchi assolutamente inattesi a Mantova si aprono le stamperie ebraiche immaginate cosa dicevano in Vaticano sentendo questa notizia a Venezia stampa un po' chi vuole cioè se è una libertà di stampa in giro perché stampare è molto più facile non serve il monaco non servono i quaranta monaci di un monastero ognuno davanti a un foglio che poi vengono rilegate insieme e fatte una cosa di stralusso basta una officina attrezzata correttamente per fare la stamperia la libertà è intollerabile però noi siamo fautori di quella libertà siamo grandi protagonisti del libro ma accettiamo che il libro non sia roba nostra è una roba più per gli altri cioè qui siamo in paese del melodramma da allora poi non è vero che non riprendiamo grinta nei secoli successivi assolutamente sicuro e partecipiamo anche a quella che è l'ultima grande e formidabile mutazione che è quella che avviene nel XIX secolo perché in fondo il libro è una cosa fondamentale perché il libro è il supporto fino al 1810-15 la carta era carissima c'è un bellissimo lavoro fatto da Donald Sassoon un milanese che insegna in Inghilterra che ha passato essendo lui uno molto attento preciso ha passato una parte della sua vita a indagare i prezzi della carta e le mutazioni del costo dei libri attraverso il XIX secolo e lo riassume abbastanza bene dice nel 1815 un patler cioè un capocasa in una casa nobiliare inglese guadagnava una sterlina e mezzo al mese un libro costava una sterlina e mezzo cioè lui doveva spendere una sterlina era un fraco di soldi cioè un mese di lavoro gli dava il diritto a comprare un libro un po' come diciamo oggi 3000 euro per un libro 60-70 anni dopo con una sterlina sterlina e mezzo si compravano 100 libri cioè ha perso due zeri di prezzo perché era mutata la produzione della carta con l'introduzione dei sistemi industriali ed era anche cambiato il costo di stampa il che ebbe conseguenze parallele cioè accanto al libro si smise di fare gazzette e si cominciò a fare giornali e accanto ai giornali si cominciò a produrre le immagini stampate e tutto il gioco della comunicazione visiva rapida e nacque il mondo complicato e complessivo delle incisioni colorate delle litografie della pubblicità a partire del XIX secolo abbiamo cominciato ad abbandonare il libro come unico testo da leggere e abbiamo reinventato il foglio libero dell'antichità abbiamo cominciato a chiudere il percorso del libro stretto e serrato e abbiamo lasciato convivere i due mondi il foglio libero e il foglio del libero chiuso e poi oggi siamo arrivati al tablet questo mi serve per ragionare sul tablet non mi fa paura non è un problema mio è un problema di Newsweek non è un problema di tutta la stampa è un problema della stampa che non se la sentirà di voler rimanere tale anche nella storia è un problema di chi pensa che la sua vita è solo nel momento in cui stampa è in cassa e non più nel tentare di elaborare materiali che diventino archivio nel momento stesso in cui nascono sicché il domani sarà semplicemente come è stato l'ultimo secolo così come l'arrivo della carta libera non ha affatto fatto morire il libro l'arrivo del tablet non farà morire né la carta libera né il libro l'unico vantaggio che ne terremo è che nel 1805 forse un Butler su 200 comprava un libro nel 1890 tutti lo facevano anche il cameriere capo di Sherlock Holmes come dice il dottor Watson oggi molta più gente legge e domani se aumentiamo ulteriormente la diffusione la lettura non calerà la lettura crescerà allora in una città come la vostra questo ragionamento dovrebbe generare delle eccitazioni trasversali in fondo Poggio Bracciolini a me è abbastanza simpatico non è nato proprio qua ma qui nei dintorni eh? sì esatto lì accanto Marsilio Ficino neanche lui ma è nei dintorni voi avete qua di zona Ficino faceva figlio del medico di Cosimo il vecchio e si diede a fare medicina anche lui ma soprattutto a fare il maniaco traduttore dal greco e senza di lui non avremmo avuto l'espansione così rapida della cultura neoplatonica Poggio Bracciolini mi interessa di più perché più nella categoria del Fulbacchione non ho mai capito se ci faceva o c'era in sé una roba una figura una di quelle belle figure ambigue e come tali più interessanti delle altre uno che riesce a infilarsi nelle grazie del pappato in un momento particolarmente complicato quando fra Costanza e Basilea e nei due concili c'erano addirittura tre papi contemporaneamente uno per i tedeschi uno per i francesi uno per i cardinali e si infila in quel percorso lì diventa amico di quelli più che contano in più diventa amico dell'Enea Silvio Piccolomini torna con una cosa che invece di lui apprezzo molto con una difesa sentimentale di Jan Hus e degli altri eretici bruciati in cui dice io li ho visti a mio parere a gente che c'era le palle scusate il termine tecnico non ha scritto così ma più o meno il senso della lettera sua è questa ho assistito ai processi ho contratto persone di altissima fierezza e di grande correttezza intellettuale che già mi fa molto simpatico Bracciolini ma la parte più divertente del suo mestiere è che lui girava l'Europa per conto della Repubblica Fiorentina e in modo particolare per conto del vecchio Cosimo e comperava i libri che mancavano a Firenze andava a Sangallo piuttosto che a Cluny corrompeva i monaci gli offriva dei danari infiniti per accrescere le biblioteche perché partecipava a un mondo che tuttora torna ad essere per noi un mondo incredibilmente significativo io ogni tanto dico quando sono davanti a un'assemblea del genere dico a me c'è un uomo politico che mi piace molto e tutti si spaventano dico sta a Firenze dico si preoccupano ancora di più tutti quelli versali dico è Cosimo il vecchio e tutti si rilassano però Cosimo il vecchio è realmente esemplare lui eredita dal padre tre libri che erano tre libri di preghiera e quando muore lascia a Firenze diecimila libri in quegli anni lì è una quantità incredibile se pensate un secolo prima Petrach ne aveva 40 lui si fa ripagare il prestito fatto alla corona d'Ungheria invece che in Danaro tanto l'avevano finito facendosi mandare la biblioteca ungherese a Firenze lui è convinto che possedere i grandi testi sia fondamentale per fare una grande politica e porca miseria quando lui riesce più o meno ad evitare che lo facciano fuori dopo appena tornato da Venezia negli anni 30 e riesce a far fuori invece il gruppo del bancario opposto al suo quello degli strozzi si lancia su questi investimenti perché capisce che lì è il business lui è il primo che capisce che comprare i libri occuparsi di cultura investire in cultura è uno dei meccanismi per arricchire la sua città quindi il suo governo e nel giro di 20 anni trasforma Firenze che non era affatto in una posizione preeminente nella più grande potenza finanziaria d'Europa a questo anche servono i libri e questo noi dovremmo diffonderlo molto nella cultura quotidiana sono contento di avere un sindaco a disposizione ma a tanti sindaci vorrei farlo sentire questo discorso vorrei far sentire anche ogni tanto un ministro un assessore regionale cioè tutti quelli che si occupano dell'argomento perché si rendono conto che oggettivamente per noi avere ritrovato a San Gallo forse il Vitruvio è stato fondamentale per fare una parte dell'architettura del Cinquecento aver ritrovato i libri di medicina è stato fondamentale per fare un balzo incredibile alla sanità aver trovato i libri in generale che parlavano di estetica ci ha permesso di entrare in competizione con Bruges e vincere la competizione con Bruges allora sotto il segno sacro del vecchio Cosimo forse continuare a insistere nelle nostre biblioteche nei nostri luoghi di sapere nell'accumulo non è cosa sbagliata e se voi lo fate vi faccio complimenti grazie a tutti grazie a tutti